Siamo sempre alla ricerca del cibo perfetto, come una pillola magica che ci aiuti a migliorare il nostro corpo e che abbia anche un buon sapore. In realtà non ci serve una pillola miracolosa, spesso qualcosa di cui siamo alla ricerca si può già trovare in natura. Il miele ne è l'esempio perfetto. Si sa che ha numerosi benefici per la salute, ma non tutti riescono a capire che il miele può aiutare a guarire il nostro corpo e migliorare la nostra salute generale. Dopo aver letto questo articolo, tu e i tuoi amici potreste voler aggiungere un cucchiaio di miele alla vostra dieta quotidiana. Ecco 8 cose che succederanno al vostro corpo se iniziate a mangiare miele tutti i giorni. Il miele contiene antiossidanti, vitamine e proteine che se consumate regolarmente possono liberare il corpo da diverse tossine. Inoltre, il miele ha proprietà antibatteriche che aiutano a migliorare le condizioni della pelle. Per esempio, molti usano maschere al miele che sono ottime e funzionano davvero. Una maschera al miele è un'esperienza calmante e deliziosa. Se hai qualche chilo in più, la maggior parte dei dottori e degli esperti consiglia di controllare e ridurre il consumo di zuccheri. Il miele è un eccellente sostituito dello zucchero, perché mantiene il livello dello zucchero nel sangue e può anche aiutarti a perdere peso. Contiene vitamina B6, acido folico, vitamina C, ferro, calcio, sodio, zinco, potassio, fosforo e altri minerali noti per accelerare il metabolismo, degli studi hanno mostrato che sostituire lo zucchero con il miele può anche ridurre il rischio di malattie cardiovascolari nelle persone obese. Il miele non ha colesterolo. Infatti, come scrive BBC stando a degli studi dell'Università dell'Irinoi e altri, il miele aiuta a ridurre il livello di colesterolo cattivo, una dose giornaliera di miele ha effetti benefici sul livello di antiossidanti nel corpo, che si pensa combattano anche il colesterolo. Ricerche dimostrano che gli antiossidanti nel miele possano prevenire che si blocchino le arterie aiutando a combattere molte malattie che hanno a che fare col cuore. In uno studio, 25 uomini tra gli 8 e i 68 anni hanno bevuto un composto di 4 cucchiai di miele in un bicchiere d'acqua. Il risultato è stato una crescita del livello degli antiossidanti nel loro sangue, scrive il Daily Mail. Sembra che mangiare miele aiuti a combattere lo stress, ma sapevate che può anche aiutare la memoria? Uno studio del 2011 ha mostrato che le donne in menopausa che mangiano un cucchiaio di miele al giorno mostrano miglioramenti della memoria. Stando al ricercatore Matthew Brennecke, il miele ha anche la capacità di aiutare il corpo ad assorbire il calcio che ha effetti benefici sulle funzioni del cervello. Il miele può aiutare le persone che hanno problemi a dormire, come lo zucchero. Il miele causa un aumento di insulina e rilascia serotonina, la sostanza che migliora il nostro umore e felicità generale. Il corpo trasforma la serotonina in melatonina, un composto chimico che regola la qualità del sonno. Stando a Rene Ficek, scienziato sperimentale al Seattle Sutton Health Eating, il miele ha proprietà antibatteriche e molti consigliano di mangiare un cucchiaio di miele a stomaco vuoto. Questo trucco aiuta a prevenire varie malattie associate al tratto gastrointestinale. Stando a molteplici studi, quando il miele attraversa lo stomaco può contrastare i batteri e guarire piccole ferite della mocossa, dicono i ricercatori. Alcune persone non mi credono quando dico loro che un bicchiere di latte caldo col miele mi aiuta ad addormentarmi più facilmente. Se non mi credete, ascoltate i ricercatori. Uno studio olandese ha mostrato che il latte caldo aiuta a combattere i problemi del sonno. Anche il miele gioca un ruolo importante in questa classica cura, perché l'amminoacido triptofano del latte funzioni, ha bisogno di insulina. L'insulina si crea nel corpo quando mangiamo qualcosa di dolce, perciò un cucchiaio di miele nel latte aiuterà a dormire meglio. Altro consiglio, miele e aglio. Anche l'aglio è un altro potente rimedio naturale con forti proprietà curative e antisettiche. Perciò, perché non mescolare questi due ingredienti? Sia il miele che l'aglio sono ottimi per migliorare il sistema immunitario, quindi usare questo rimedio aiuterà a prevenire raffreddori e altre malattie. Ti serviranno i seguenti ingredienti. 3-4 spicchi di aglio, una tazza di miele, un piccolo barattolo con coperchio taglia l'aglio in piccoli pezzetti. Mettili nel barattolo e versacci sopra il miele. Chiudi con il coperchio e lascia riposare per qualche giorno. Poi mangia un cucchiaio al giorno a stomaco vuoto e vedrai migliorare il tuo corpo, e il tuo sistema immunitario in solo qualche giorno. Per favore condividi questo articolo con tutti i tuoi amici su Facebook così che altre persone possano provare i fantastici benefici del miele. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti.